Wow, forte quella gigantesca esplosione, chi avrebbe mai pensato che il carburante tossico della trivella avrebbe inondato la fabbrica mettendo in pericolo un numero imprecisato di vite! Io sì! Gli spettatori di Dread Zone stanno respirando una notevole quantità di vapori tossici e poi si parla di allergie. Meglio muoversi, Team Darkstar! Il carburante tossico sta causando non pochi problemi nell'altro lato della fabbrica! Ratchet, dovrai entrare nella fabbrica e disattivare i campi di forza per arrivare dall'altra parte. Spettacolo! Riprogrammerò queste sfere mentre lei mi capava, da signora... Oh no! Non riesco a guardare! Invece sì! Fox ha progettato le proprie armi in modo da guadagnare esperienza, fatto che ti permette di potenziarle. Le armi potenziate non solo infliggono più danni, ma possono essere modificate. Oh, forza! Qualcuno vuole uccidere quel piccolo ammasso di pelo? Oh! Oh, forza! Oh! 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 Grazie a tutti. 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 Il pubblico è pronto a saltare sulla propria sedia. Vi dirò nulla che attura l'attenzione degli spettatori come la certezza di essere tutti sul punto di morire. Santo cielo, che finale, quel piccolo lombax non finisce mai di stupirmi!